Anna Tatangelo ha ammesso di aver sofferto tanto per il mancato matrimonio con Gigi D'Alessio. Quest'ultimo è stato il suo compagno per tantissimi anni e da lui ha avuto anche il suo unico figlio, Andrea. Oggi undicenne. Intervistata dal Corriere della Sera ha spiegato Sì, ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c'è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l'abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo. Al di là delle storie vissute, la vita va avanti. Ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, con volare a nozze, ha poi aggiunto. Non è però chiaro cosa abbia impedito all'ormai ex coppia di giurarsi amore eterno. Diciamo proprio che nessuno sa il perché e forse non lo sapremo mai, a meno che la Tatangelo non decida di raccontarlo. Forse era lui a non volere, ma queste sono solo supposizioni. La Tatangelo, infatti, non si sbilancia a rivelare il motivo. La sua vita ora continua e il 19 settembre, su Canale 5, inizierà a condurre il programma dal nome. Scene da un matrimonio. Di questo è felicissima così come del rapporto che ha con il figlio e infatti racconta. È felicissimo quando vede la mamma che si emoziona, per lui è motivo di orgoglio. Ho un bellissimo rapporto con Andrea, parliamo tanto e ci facciamo forza a vicenda. Secondo voi come mai in questi anni non si è mai sposata? Sarà di peso da Gigi D'Alessio? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.